E' un po' a pubblicare il suo nuovo disco, Effetto Notte. Il motivo lo spiega lui nella conferenza stampa di presentazione del progetto. La verità è che ho dato forse un po' troppo la precedenza alle minuziosità. E poi sono state davvero tante le partecipazioni, tra cui il Futuring di Salmo, Sfera, Diepechegno, Lazza, Neima e Rizzo.